Sono Stefano Ranghieri, il direttore marketing di MAPEI. MAPEI è un'azienda ovviamente italiana, siamo circa 11.000 persone, siamo i leader nella chimica per l'edilizia. Siamo a Made Expo perché riteniamo comunque questa un'importante vetrina. È sicuramente un momento di ripartenza e per MAPEI essere presenti in questa fiera con la sua filiera, con il suo settore è assolutamente essenziale. MAPEI è da sempre attenta ai temi della sostenibilità, la sintesi di questi temi è forse quella del nostro rapporto di sostenibilità, che è un rapporto che facciamo ormai da diversi anni e per noi comunque è essenziale che i nostri prodotti, le nostre soluzioni, le nostre tecnologie siano comunque estremamente sostenibili. Ma è essenziale per MAPEI fare proprio un gioco di squadra con quella che è la sua filiera. Noi abbiamo chiaramente dei prodotti e cerchiamo di fare in modo che questi prodotti siano il più sostenibile possibile, in modo tale che poi quando questi prodotti entrano all'interno della filiera anche poi i risultati sono estremamente sostenibili.